giovani stiamo perdendo 1 a 0 in matusa hanno segnato tac tiro sotto gli incroci sì loro come abbiamo visto spendevano migliaia di euro in meno all'anno migliaia di euro in meno all'anno nel trasporto bicicletta piedi costano molto 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 meno di una macchina ma io che sono il vostro mister ho trovato la via del gol pareggeremo 1 a 1 palla al centro e ce la giochiamo fino alla fine e sì ragazzi perché diciamocela tutta questa solita solfa noi abbiamo fatto i sacrifici voi siete molli come dei fichi ah noi abbiamo i sacrifici 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 che palle andiamo a vedere un attimino quanto costava una casa negli anni 70 e qual era la durata media di un mutuo tra gli anni 60 e gli anni 80 e parlando con le mie sure ho scoperto delle belle cosine e sì perché un paio di loro mi hanno detto e sai noi negli anni 70 negli anni 60 abbiamo comprato casa e e finché c'era da pagare il mutuo sacrifici 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 io ingenuamente ho chiesto ma di quanti anni avete fatto il mutuo cinque anni prudono le mani 10 anni prudono due volte le mani eh signori miei è proprio la realtà una volta lavorava una persona sola e con lo stipendio di una persona eh già si poteva comprare una casa facendo un mutuo tra i 5 e i 10 anni cara Shura è chiaro che hai fatto i sacrifici ci hai messo 5 anni per pagare una casa tutti quelli che conosco io ce ne mettono non 3 30 30 30 qui i fattori che ci portano sull'uno pari perché questo è uno pari cioè senza neanche discussione sono due 1 le case attualmente sono fuori mercato come prezzi costano troppo troppo cioè chi ha comprato casa negli ultimi 10 anni ai prezzi di mercato attuali forse riuscirà a venderla nel 2150 quel prezzo mi hanno inculato mi dispiace 2 il potere d'acquisto cioè se un operaio prendeva 1100 euro nel 2000 eh se prende sempre 1100 euro nel 2016 c'è un problema è chiaro che noi abbiamo un potere d'acquisto decisamente inferiore ai nostri genitori e ai nostri nonni e tutto qui il discorso case troppo care potere d'acquisto dello stipendio pare a zero 1 a 1 palla al centro ma tu usa ce la giochiamo sì lo so lo so mi aspetto le contestazioni però andiamo a dare uno sguardo nel 1970 ok prima che nascessi io io sono andato nel 76 per comprare una casa bastavano 80 stipendi di un operaio 80 stipendi 80 mensilità facciamo un conto di quanti sono 80 mensilità io in sostanza potevo lavorare 6 anni e mezzo accantonando uno stipendio e poi mi sarei comprato cash la casa ora ci vogliono 208 stipendi per comprare una casa 208 stipendi 1 a 1 palla al centro forza ragazzi grazie a tutti